Al mio fianco, come abbiamo anche anticipato nel fine settimana, Luca Osso, buongiorno. Buongiorno Martino e grazie per l'opportunità. E ci mancherebbe, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Parliamo infatti dell'appuntamento che si è tenuto sabato al Museo Comunale di Praia Mare, un contesto fotografico che ha fatto da cornice ad un'attività di beneficenza e soprattutto di sensibilizzazione contro il tumore al seno. Quindi di questo abbiamo parlato. È partito tutto da un contesto fotografico, dalla pagina che gestisco, la pagina Instagram, Miggi Calabria e Gicosenza, che si occupa di promozione territoriale. Da lì è nata quest'idea di creare un contesto fotografico, le cui 20 foto finaliste dovevano essere poi esposte al museo. Bisognava però aggiungere una valenza anche dal punto di vista benefico. Ed essendo io volontario dell'associazione Comunitalia, ho deciso di rendere il tutto, quindi di unire promozione territoriale, passione per la fotografia e beneficenza in un tutt'uno. Sono contento perché i fotografi hanno colto a pieno l'importanza non solo del contesto ma della tematica trattata, perché la beneficenza, in particolare in questo caso la lotta di tumore al seno attraverso l'associazione Comunitalia, che è tra le più attive in questo settore, diciamo, in Italia e nel mondo, è stato possibile fare tutto questo. È stato possibile grazie anche all'amministrazione comunale di Praia Mare, che ringrazio al museo di Praia Mare, in nome del direttore Mario Oriente, del professore Pepe e della signora Tiziana, che mi ha aiutato anche nell'allestimento della mostra, perché come hai potuto vedere è stato ben sistemato il tutto, tutte le 20 foto. E poi dopo vorrei ringraziare in particolar modo l'associazione Sanità e Vita, quindi Giovanna Pedullà, Alessandra Cozza e Giuseppe Conte, il presidente che tra l'altro è anche intervenuto, per aver deciso di collaborare. Hanno collaborato nel modo, diciamo, più... e hanno accolto questa mia idea nel modo migliore possibile, secondo me. Perché sin da subito con Giovanna c'è stato un buon feeling, diciamo, e c'è stata subito l'idea di creare un workshop. Un workshop in cui si parlasse appunto di prevenzione, prevenzione in particolare dal punto di vista nutrizionale. Ricordiamo che la prevenzione, diciamo, è di fondamentale importanza, perché ci permette appunto di risolvere tanti problemi che col passare del tempo poi dopo sono molto meno risolvibili. Alla fine siamo ciò che mangiamo. Esatto. E questo diventiamo. Come ha detto appunto la dottoressa Marino, che è intervenuta appunto grazie a queste collaborazioni con l'associazione Sanità e Vita, e che molto probabilmente sarà saputo qui. Quindi inviterei tutti ad ascoltare l'intervento della dottoressa Marino, che ha dimostrato una professionalità eccelsa. Poi dopo è riuscita a far appassionare, diciamo, a coinvolgere. Comunque penso non sia molto facile, perché sono comunque tematiche molto delicate, si parla anche, diciamo, in termini specifici. È riuscita a coinvolgere tutto il pubblico durante l'evento. Ringrazierei anche il pubblico, che comunque tutti gli intervenuti che hanno partecipato. Appunto l'hashtag dell'evento era riempiamo il museo, e penso che ci siamo riusciti a pieno, diciamo. Anzi, penso che riempire il museo al giorno d'oggi non è molto molto facile, come mi confermava il direttore Mario Oriente. Mi diceva appunto che tutta questa affluenza non è molto facile ad averla. Quindi penso che... La manifestazione meritava pure, perché... Sì, la manifestazione meritava pure, però dico che in generale bisognerebbe anche vivere maggiormente, secondo me, luoghi come il museo. E questo lo diciamo sempre, no? È un po' anche... Il nostro territorio è pieno comunque di queste difficoltà. Organizzare degli eventi che poi non sempre riescono ad attrarle. Esatto, esatto. Invece l'interesse della cittadinanza. Ma al di là di questo, tu entri l'anno scorso come volontario nell'associazione Susan Comen. Comen, sì. Ci entri sempre attraverso l'arte, giusto? Sì, allora, io ho realizzato una mostra fotografica anche l'anno scorso, sempre al museo di Praia Mare. E anche lì l'idea era quella di... Dato che comunque le pagine di Serum che gestisco hanno un buon seguito, era quella di non lasciare la mostra fine a se stessa, ma creare un qualcosa anche di benefico. Perché penso che nel momento in cui uno ha la possibilità di avere un ampio pubblico, è bene che si possa, diciamo, intraprendere un'iniziativa come questa. e quindi ho deciso di rendere il tutto in chiave benefica. Quindi sono venuto in contatto con Maria Girillo, che ringrazio la dottoressa Maria Girillo. E che salutiamo. E che salutiamo. Con lei ogni tanto è il nostro ospite. E che ringrazio, perché mi ha fatto entrare, diciamo, in questo mondo e mi ha aiutato. Da lì sono diventato volontario dell'associazione. E penso che un po' tutti possano diventare volontari, diciamo, e invito anche chi magari volesse creare qualcosa, a diventare volontario. Perché, come scrivevo ieri su un post su Facebook, non c'è bisogno, cioè, per diventare volontario di un'associazione benefica, non ti chiedono l'attestazione ISEE, o il titolo di studio. Quindi chiunque può diventare volontario e può organizzare degli eventi che possano fare del bene, diciamo, a chi sta meno bene, appunto. Quindi ringrazio Maria, che mi ha aperto, diciamo, questa strada e che io ho deciso di affrontare, diciamo, anche se comunque con alcune difficoltà, perché comunque si parla di tematiche molto, molto, molto importanti. Dai, si tocca con mano il dolore. Esatto, esatto. Infatti, da lì poi dopo ho realizzato anche i calendari, ormai da due anni, realizzo i calendari delle pagine che gestisco in favore dell'Associazione Come in Italia. Anzi, invito, se qualcuno fosse interessato ad acquistare questi calendari, può contattarmi o può contattarmi sulle pagine Instagram che gestisco. Ricordiamo che tutto va in beneficenza. Sì, sì. È tutto a beneficenza, insomma, che va per la ricerca. Ecco, le pagine che gestisci, quali sono? Allora, io gestisco due pagine Instagram che si chiamano IG Calabria e IG Cosenza. Nasco come admin della pagina IG Cosenza da 4-5 anni ormai. Dopodiché, Maurizio Iori, che è l'admin di IG Calabria, perché prima IG Calabria non era gestita da me, era gestita da altre persone, l'admin di IG Calabria, tuttora admin insieme a me, ha deciso di coinvolgermi in questa iniziativa. E quindi sono entrato anche io a far parte della pagina Instagram IG Calabria, che vanta circa 26.000 follower oggi, mi pare. E lo ringrazio. Si occupa la pagina, le due pagine che gestisco, ma ci sono anche, diciamo, IG Crotone, Catanzaro, eccetera. Ogni provincia, insomma, alla sua. Si, è a livello nazionale, quindi da IG Italia, poi dopo ci sono tutte le varie province. Ci occupiamo di promuovere il territorio mediante la pubblicazione quotidiana di fotografie. Quindi diciamo che la fotografia diventa un modo per promuovere il territorio. Quindi quotidianamente pubblichiamo queste fotografie che vengono appunto viste da un sacco di persone e che comunque invitano magari anche a visitare la Calabria, perché comunque ricordiamo che la nostra Calabria non è solo assenteismo, andrangheta o cose del genere. Infatti di Crone che ce lo ricordano. Purtroppo, sì. E quindi penso che abbiamo anche molto molto altro da vedere. Ricordiamo che la nostra regione, quindi abbiamo un mare fantastico, perché il 70... Quasi tutta la nostra regione è ricoperta, è circondata dal mare. Sì, è circondata. Una penisola, praticamente. Penisola nella penisola, sì. Una penisola nella penisola. E poi abbiamo la Spromonte, abbiamo la Sila, quindi abbiamo pure le piste scistiche, quindi abbiamo dagli stabilimenti balneari alle piste scistiche, quindi penso che è un territorio che ha da offrire veramente, veramente tanto. Promuovere la bellezza con una foto tante volte non basta, ma quantomeno ci riesce a dare anche una prospettiva diversa, cioè di quello che siamo. Esatto. E voi questa avete voluto fare attraverso i vostri gruppi. Esatto, sì. Noi pubblichiamo quotidianamente foto di... soprattutto paesaggistica, quindi ciò che offre il nostro paesaggio, ma è capitato anche di pubblicare delle foto che rappresentassero la vita, diciamo. Infatti, non so se hai visto anche alla mostra, c'erano in particolare due foto in bianco e nero, una di una signora anziana che sarebbe la nonna della fotografa e una di un gruppo di anziani lungo una via di Cerisano e penso che quello rappresenta davvero quello che è la Calabria. voglio sottolineare anche una foto che ha avuto un sacco di successo di Francesco Mangialavori che non so è girata tantissimo, lui l'ha scattata con un cellulare ed è un anziano su una via mi pare di civita che rappresenta proprio l'umiltà e la la passione con la quale ogni mattina si alza vi inviterei a vederla comunque purtroppo è stata anche rubata tra virgolette perché poi così succede e tra l'altro vorrei sottolineare il fatto che è stata fatta con un cellulare quindi la fotografia non solo come la macchina fotografica è bassa ma anche con i cellulari diciamo si possono realizzare ottime foto ciò non vuol dire che chiunque può fare le foto col cellulare perché è ben diverso però con un minimo di di accortezza rispettando alcune alcune caratteristiche possono uscire veramente dei buoni dei buoni scatti come quello di Francesca appunto che mi ha colpito e ha colpito parecchi perché veramente è stata è girata ovunque ecco noi poi vogliamo ricordare infatti che voi vagliate anche selezionate le foto che vi mandano ecco comunque devono avere un'aurea artistica è vero perché noi le selezioniamo tra quelle con il nostro hashtag quindi selezioniamo tra ad esempio tu pubblichi la foto con l'hashtag gicosenza io vado a vedere tutte le foto con l'hashtag gicosenza e vado a scegliere quella che a mio parere dato che io sono l'amministratore quella che a mio parere rappresenta meglio il territorio o comunque rappresenta meglio quella che è la mia provincia o la mia regione ecco quindi dobbiamo tenere a mente ricordiamo quindi questi due profili si sono IG Calabria si trova sia su Instagram che su Facebook che IG gicosenza ma diciamo che non è solo non è l'unico l'unico account diciamo ci sono diversi account che si occupano di di promozione territoriale penso che non in questi casi come diciamo in generale non bisogna avere invidia o altre cose perché sono pagine simili che si occupano di cose simili quindi dal momento in cui io vado a promuovere il territorio tu vai a promuovere il territorio sinceramente a me non interessa tanto che abbia più successo la mia o la tua pagina se è successo la mia pagina e la tua pagina va bene quindi le web di quartiere va da poco anche se la mia non va bene mi interessa che la promozione territoriale ci sia perché ho verificato che c'è molta un po' di invidia c'è diciamo non è un qualcosa di molto carico dobbiamo tenere in considerazione che ormai i social si basano tutti sull'invidia prima c'era l'invidia sociale dal bar ora invece c'è l'invidia sociale sulla rete penso inoltre che eventi come questi siano un buon tramite diciamo un quel che i social possono portare di buono nel senso che eventi come questo la condivisione di eventi come questo la pubblicità di eventi come questo ma come ce ne possono essere tanti altri può veramente far esaltare la parte buona dei social che purtroppo al giorno d'oggi non penso sia sfruttato diciamo nel migliore dei modi perché vedo tanti tante persone che lo usano magari solo per condividere qualcosa così scrivere buongiorno scrivere la mia squadra ha vinto la tua persa che diciamo fino a un certo punto ci sta ma usarlo solo per quello forse è un po' eccessivo è limitato insomma è limitativo bene io ti ringrazio Luca e soprattutto ci ti avremo in contatto anche per parlare delle altre attività che avevano fatte attraverso la tua pagina ma anche in concomitanza con la Susan Comen Sanità e Vita a me farebbe piacere creare altre impegni di studio permettendo creare altre e altre iniziative come queste infatti soprattutto con questa collaborazione con l'associazione Sanità e Vita con Antonella Marino con la quale che invito spero verrà sabato sì già la stiamo contattando invito ad ascoltarla soprattutto con l'associazione Sanità e Vita con la quale mi sono trovato davvero bene ed è stato veramente bello collaborare in questi in questi termini e inviterei tutti a di nuovo per il calendario per chi fosse interessato e ringrazio ringrazio te per l'invito è stato per me un piacere grazie ancora a tutti grazie anche grazie anche a te noi ricordiamo i nostri ad ascoltatori che darà poco anche questa intervista sarà sui nostri canali social e quindi alla prossima grazie ancora Luca grazie a te